c'è un tappo della marmita no impenna la terra metti la marcia ma no e anche se va dentro lo sputa fuori vieni di qua aiutami azzela su ma figa oh ma si può filma 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 che filma con il cinematogra cacciavite 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 che l'hai? io che l'ho respirato vi ho fatto figa tutte le tere le convine e la candela e il porco vuoi a pensare te ma che cazzo vuoi pensare che è entrata dentro tutta la terra mica hai fatto un solco potevi immaginarlo e non voglio pensare cacciavite ma dai no prova a vedere ero già preoccupato è dato ma so che se io pensavo questa è una chiave non cacciavite infatti ho visto che usciva un po' di fumo da lì davanti perché andava sempre alla ventola? perché non espira c'è un cane ma fino a dove è andata? è incredibile ma porco Dio ti rendi conto con se mi tiro a fare? vedo un casco che c'è in giro non c'era mai successo questa guarda ti giuro non c'era mai successo non c'era mai successo non c'era mai successo questa se gliela portavo su dal meccanico e mi diceva e mi diceva e mi diceva ma un brigo no non ti diceva questo strunz no non mi diceva un cazzo mi diceva 200 euro si accorgeva sicuro che non si accorgeva capisce che mancava cizza la moto è andata vai accendila ma vaffanculo porco Dio beh però questa è bella ma come ha fatto ad entrare la terra? ah si è caputato eh piano stai a girare zio zio non è molto tesa questo hai aperto un pochino? no c'è solo il coso dai 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 che esperienza vedi che con te impariamo che con te con te farei cose nuove no sentite con te con te farei cose nuove ti è andato tu hai guardato il gioco qua c'è il tubo pieno di terra però vedi che oh cioè ma tu pensasi non ti scontravi il catturatore non gli vanno gli occhi a vedere non pensi più no ma io